Il mega concerto di Giovanotte il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto al momento non si farà. Lo ha comunicato il prefetto di Chieti per la mancanza dei requisiti di sicurezza. Bocconi Amaro per i fan del Giova Nazionale che aveva inserito la data di Vasto nel tour sulle spiagge italiane. Insomma rischia quasi sicuramente di saltare il Giova Beach Party nonostante gli oltre 40.000 biglietti venduti. Il prefetto Barbato ha ribadito di essersi rivolto più volte agli organizzatori. Vi pregherei di metterci a me come prefetto e come presidente del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tempestivamente in condizioni di validare e di verificare il piano che necessariamente dovete predisporre. Siamo parlando di marzo. Siamo riusciti ad avere un piano che poi non ha assolutamente rispondenza con i luoghi cosa che è già emerso dalla stampa locale solo nell'imminenza del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che abbiamo fatto il 27 di giugno. Al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica del 27 di giugno è susseguita la riunione tecnica in quest'ora. In quell'occasione ti saresti aspettato che una rispondenza rispetto a ciò che erano state le criticità che già erano state evidenziate in Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che non è la sede per l'approfondimento tecnico però considerate la manifestazione considerate che il Ministero oltre alle circolari soli ha addirittura fatto una circolare specifica per l'evento in tutta Italia proprio in considerazione dell'importanza dell'evento e della forza attrattiva di giovanotti, ebbene, si sono presentati in quest'ora senza il piano che poi al termine della riunione hanno presentato ma che è praticamente uguale al primo. Loro convocate immediatamente questo comitato, abbiamo ribadito nuovamente ogni rappresentante delle forze dell'ordine, degli aspetti tecnici, Capitaneria, Vigili del Fuoco e quant'altro si sono pronunciati con parere negativo allo Stato, soprattutto per una questione oltre che per l'internità dei luoghi legati al fosso, l'ha il discorso dell'autostrada, cioè ma si può chiudere? Il 17 agosto, sabato, Bollino Rosso, vero? Come andiamo? L'Adriatica, è in autostrada, che succede? Spacchiamo l'Italia in due. Poi, tutti gli aspetti economici connessi a questa cosa, perché stiamo parlando di un giro a Giovanotti non posso dire nulla. Diciamo che da fan, però mi chiedo, ma un personaggio internazionale come Giovanotti, che va ben al di là di quello che è l'essere semplicemente un cantante, che si inventa una cosa importante per sensibilizzare lo spirito dei nostri ragazzi e anche di quelli più grandi in termini ambientali, perché veramente c'è da salvare questo mondo, e quindi lo fa in questa maniera e va benissimo, perciò sceglie la spiaggia. Ma lo sa la sua organizzazione, dove ha individuato e in che data la sede del suo concerto a Vasto? Secondo me non lo sa, perché io sono convinto che se Giovanotti e il suo manager, quelli più vicini a lui, l'avessero saputo, avrebbero detto lo dobbiamo fare in un luogo idoneo. La strada più diretta verso il cuore delle cose, che è sempre un cuore che batte come un tamburo.